ciao ragazzi oggi andiamo a fare l'unboxing di dell'asta su da per immersione per la nostra gopro questa è la confezione ha detto vediamo sia l'asta che diciamo da la chiavetta per stringere la vite andiamo ad aprire io per regolarmi anche qua per fare il primo con i video ho già aperto qua vado ad aprire la plastica all'interno l'asta con la vite e il nuovo sistema con la vite chiusa è veramente leggera ben fatta la cordicella resiste e questo è elastico qualità ottima in più abbiamo la chiavetta per stringere la vite questa è veramente utilissima per restringere al massimo per far sì che non si perda la nostra gopro è veramente utile niente questo è un unboxing veloce semplice e nei prossimi giorni vediamo se faccio un video sull'utilizzo di queste cose qua vi ringrazio per ora ciao al prossimo unboxing